bravo 30 ritarda tornate sinistro 30 sinistra 4 per sinistra 3 in sacrifica destra 3 subito tornate destro 1 esce sinistra 3 per destra 5 e diventa 4 in sinistra e destra 3 subito sinistra 2 stai sotto destra 5 in sinistra 3 tieni in destra 4 in tornante sinistro 30 sinistra 3 vai in destra 4 lascia e diventa 3 diventa 3 30 destra 2 vai 30 tieni destra sinistra 4 per destra 3 vai 30 sinistra 5 per sinistra 4 tieni in destra 3 50 allo specchio stai a sinistra destra 5 secca in sinistra 4 subito sinistra 2 apre 2 apre per sfila destra per ritarda destra 2 30 destra 5 lunga 50 sinistra 4 tieni intornate destro 1 30 sinistra 3 lunga lunga per destra 5 per destra 5 per alla casa tornante sinistro 1 bravo Mirko esce destra 3 lunga e spila destra in sinistra 4 in sinistra 4 destra 5 per sinistra e destra 3 20 sinistra 2 apre apre 5 tieni in destra 3 secca scusami destra 3 lascia subito destra 3 20 destra 4 lunga e occhio rovescio frena tornante destro 1 bravissimo esce sinistra 4 e al palo diventa 2 50 al cartello destra 3 in sinistra e destra 3 in sinistra 4 per sinistra e destra 5 e al rovescio destra 3 al rovescio destra 3 in anticipa sinistra 2 vai e apre 5 30 destra 5 e frena sinistra 3 vai 3 vai 3 vai 50 destra 4 stai in sinistra 3 3 100 al cartello andiamo andiamo sinistra e destra 5 e alla casa tornate sinistro vai 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 buona 30 destra 5 in sinistra 5 lunga 100 a vista al rail destra 3 lunga per sinistra 4 30 destra 4 2 tempi in sinistra e destra 5 per destra 5 20 e sinistra 5 stop occhio destra 3 qui 30 sinistri al cartello diventano 4 tieni in destra 4 subito sinistra 3 vai 3 vai dosso per destra 5 in sinistra 4 in destra 5 occhio chiude 3 chiude 3 30 sinistra 4 lunga stai in destra 3 vai 3 vai 20 sinistra 5 e al rail frena tornate destro bravo eh esce sinistra 4 50 sinistra 4 in destra 3 in tornate sinistro 100 sinistri destra 5 2 tempi e fine andiamo eh buono bravo bravissimo questo è fatta bene bene